Ciao ragazzi, come state? Allora ragazzi miei, ascoltatemi bene, ho deciso di fare un mini corso, quindi una serie di video, questo è il primo, sul problema del ritmo. Leggendo in vari commenti, vedendo vari video e anche alcune richieste che mi sono arrivate in privato, noto che il problema del ritmo è sempre quello, diciamo, più difficile da superare. Allora, iniziamo a capire un concetto. Il ritmo è un qualcosa che si sente dentro, ok? Infatti solitamente si dice il senso del ritmo, proprio perché noi anche se ci esercitiamo, non è che più esercizi facciamo e più diventiamo bravi a suonare a tempo. In realtà sviluppiamo il senso del ritmo, cioè il nostro orecchio si abitua a sentire parti del discorso musicale che solitamente ignora, ma ignora semplicemente perché è concentrato a fare altro, quindi noi dobbiamo abituare, educare, allenare il nostro orecchio a tenere ben a mente, tutto sotto controllo, quello che ci succede attorno. Infatti proprio suonare con gli altri, suonare su delle basi, fare musica d'insieme in una band, orchestra che sia, fa sviluppare il senso del ritmo. Ok. Allora, saranno degli esercizi un po' difficili, io spero che voi mi seguiate, perché questo minicorso non solo ha la finalità di farvi sviluppare il senso del ritmo, ma per la tipologia di esercizi che vi spiegherò, in realtà impareremo anche un po' a leggere lo spartito. Sono degli esercizi ritmici, non melodici, quindi in realtà noi non leggiamo le note, però studieremo tutte le figure musicali che compongono le battute di un pentagramma, quindi praticamente imparato questo siete già al 70% del lavoro, perché poi inserire le varie note, ok, che hanno varie altezze a seconda di dove le mettiamo nel pentagramma, ma su un ritmo che voi sapete sorfeggiare benissimo perché avete fatto questo minicorso, vi assicuro che riuscirete da qui a poco addirittura a leggere lo spartito, quindi seguitemi, vi raccomando. Allora, io ho scelto degli esercizi da un libro che si chiama Dante Agostini, che è un libro di soffeggio ritmico per batteristi, quindi già questo vi fa capire quanto è seria la cosa. Cosa ho fatto? Estrapolerò degli esercizi, tra i tanti che ci sono in questo libro, e creerò dei pdf che poi inserisco nella sezione file del gruppo. Quindi voi lì troverete gli esercizi uniti, mentre nei video che pubblico io qui e sulla mia pagina, sul mio canale youtube, ci sarà praticamente in sovraimpressione l'esercizio, ed io vi farò vedere in pratica come farlo, perché sono degli esercizi un po' particolari, non si utilizza la chitarra, ma dovremo praticamente battere sulle gambe le mani, ok? È più difficile da dire che da fare, quindi ve lo inizio a spiegare. Allora, in sovraimpressione trovate il primo esercizio. Notate che all'inizio del pentagramma c'è una frazione, due quarti, proprio perché in ogni battuta ci sono due movimenti. Infatti, le vedete quelle due note nere? C'è quei pallini col gambo all'ingiù? Perfetto, quelle sono semi-minime, tutta una parola si chiama semi-minima, la nota nera col gambo. Il gambo o è verso il basso o verso l'alto non cambia niente. Questa nota vale un quarto o un movimento, perché ogni movimento che noi batteremo con le mani sarà del valore di un quarto. Vedete, ce ne sono due in ogni battuta. Alla fine del rigo, nelle ultime due battute, vedete due note bianche col gambo, anche qui verso il basso, ma se fosse stato verso l'alto non cambiava niente. Queste note, queste figure musicali, si chiamano minime e valgono due quarti o due movimenti. È per questo che prolungano il suono per due battiti del metronomo. Infatti, a proposito del metronomo, forse non vi ho dato ancora la brutta notizia che questi esercizi si fanno con l'utilizzo del metronomo. Vi consiglio di scaricare o un'applicazione per il telefono, oppure di scrivere su un motore di ricerca di Google, metronomo, ed uscirà un metronomo già bello pronto. Allora, imposteremo il nostro metronomo alla velocità di 80 bpm. Perfetto. Sulle note nere, praticamente, ad ogni battito daremo un colpo sulla nostra gamba, in questo modo. Sentite? Battito, colpo. Ovviamente il colpo deve essere nel preciso istante del battito e non c'è prima il metronomo e poi la mano, ma precisamente sul cadere del battito del metronomo. Va bene? Sulle note, invece, sulle minime, cioè le note bianche con il gambo, dobbiamo battere una sola volta sulla mano e aspettare due battiti del metronomo, perché queste note valgono due movimenti. Quindi così. Uno, due. Ripeto, le note nere, cioè le semi minime. Le note bianche, cioè le minime. Fin qui tutto chiaro? Perfetto. Se qualcosa non vi è chiaro, me lo scrivete nei commenti. Allora, ritorniamo al nostro primo esercizio di sovrimpressione. Vedete, la prima battuta è fatta da due semi minime, la seconda da due semi minime, la terza due semi minime, così la quarta, la quinta, la sesta, la settima. L'ottava e la nona, che sono le ultime due del primo rigo, invece ci sono due minime. La nota è una sola, perché abbiamo detto che la minima vale due quarti, quindi non ne possiamo mettere di più in una misura di due quarti. La lunghezza della misura, ve lo ripeto, ce la dà la frazione che è all'inizio del pentagramma, che come vedete nell'esercizio qui è un due quarti. Adesso farò tutto l'esercizio battendo le mani sulle gambe e in sovrimpressione troverete l'esercizio così che lo potete seguire. Ok, adesso passiamo all'esercizio numero due. Ve lo metto in sovrimpressione. Vedete che a fianco al pentagramma c'è scritto 3, esercizio numero 3. Vi ripeto, questa è una selezione di esercizi che ho fatto io, quindi per noi è l'esercizio numero 2, ma per il libro in realtà è l'esercizio numero 3, non confondete. Vedete, adesso c'è una frazione differente, c'è tre quarti ed infatti in ogni battuta non troverete più due note nere col gambo, ma ne troviamo tre, proprio perché ogni nota nera col gambo c'è la semiminima vale un quarto e quindi un quarto più un quarto più un quarto uguale tre quarti. Vedete anche più avanti l'ultima battuta del primo rigo c'è una nota bianca e una nota nera, c'è una minima più una semiminima perché la minima vale due quarti, la semiminima vale un quarto messi assieme tre quarti. Ok? È un po' di matematica ragazzi ma siamo più o meno in quarto elementare. Allora, come prima, adesso faccio l'esercizio battendo la mano sulla gamba col metronomo impostato ad 80 battiti, 80 bpm. Come avete visto prima ho battuto utilizzando soltanto la mano destra, fate anche voi la stessa cosa, la sinistra la mettiamo in un secondo momento poi vi farò vedere. Grazie a tutti. Ok, anche il secondo esercizio è terminato. Allora ragazzi, per ora ci fermiamo qui perché vi devono essere chiari questi concetti. Che cos'è la semiminima? Che cos'è una minima? Che la semiminima vale un quarto, la minima vale due quarti. Come battere sulla gamba? Seguendo il metronomo. Quindi vi raccomando, procuratevi il metronomo. Se fate questo esercizio senza metronomo, praticamente stiamo perdendo tempo, non serve a niente. Procuratevi il metronomo, procuratevi il pdf dalla sezione file del gruppo. Se avete problemi mi scrivete e vi mando io il link. Magari stampatevi il pdf oppure mettetevi su un tablet, qualcosa dove lo potete vedere bene, non il cellulare che è troppo piccolo. Seguite il mio video, ok? Potete farlo anche assieme a me, anche perché si sente il metronomo in questo video e quindi se volete lo possiamo fare assieme. Però non guardate la mia mano che sale e scende, ma cercate di sentire voi il ritmo, perché ricordatevi, dobbiamo sviluppare il senso del ritmo e c'è quell'orecchio interno che ci permette di capire cosa accade attorno a noi, ok? Seguitemi perché sarà un corso interessante e vi faccio vedere che alla fine suoneremo tutti più a tempo. Ciao ragazzi!